Credo che abbiamo scritto un'altra piccola ma utile e importante pagina nella storia della cooperazione allo sviluppo, degli interventi che l'Italia nel suo complesso realizza nei paesi che si trovano in condizioni di difficoltà e che debbano crescere, debbano uscire dalla gogna del sottosviluppo. Abbiamo assistito ad un gioco di squadra straordinario, pieno di passione ma anche di grandi competenze e anche di molta esperienza perché abbiamo potuto mettere insieme tutte le diverse facce del sistema Italia quelle istituzionali con il Ministero degli Esteri, la cooperazione allo sviluppo la Presidenza del Consiglio con il Dipartimento della Protezione Civile il mondo del volontariato, quel volontariato che è sempre stato un po' la punta di diamante soprattutto nella cooperazione africana e nel settore della sanità ha certamente scritto pagine molto importanti e molto significative non solo nel sud del sud ma anche in tanti altri paesi del continente africano. Il QAM, uno dei nostri fiori all'occhiello come sistema paese ovunque essi sono andati, ovunque essi hanno avviato programmi di cooperazione hanno sempre lasciato il segno della loro testimonianza del loro credo in un rapporto davvero basato in modo paritario sull'uomo le testimonianze sono tante, non possiamo non ricordare anche in questa occasione il sacrificio di Maria Bonino che è lontano da questo paese però ha dato la vita per gli ideali e per quelli che sono i valori del nostro impegno comune e credo che allora tutto questo lo possiamo condensare appunto in una battuta un sistema Italia che quando fa le cose bene e con impegno e in modo coordinato indubbiamente lascia il segno e lascia un segno molto più efficace rispetto a quello anche di tanti altri paesi forse più avanzati, più moderni sicuramente con maggiori disponibilità economiche e lo lascia questo segno perché sa coniugare la passione, la capacità, l'intelligenza, l'esperienza e vorrei dire anche l'umiltà l'umiltà di non porsi in cattedra, di voler insegnare a tutti i costi ma invece di condividere con la gente del posto i problemi e insieme identificare le soluzioni